Ciao a tutti! Oggi un nuovo video Deborah Milano per presentarvi la nuova collezione appena uscita che si chiama Color & Care. Si tratta appunto di prodotti studiati appositamente per unghie perfette, curate e sempre protette. Fanno parte della stessa collezione anche le 8 nuove tonalità Oil & Color e si tratta di smalti dall'azione nutriente e rinforzante allo stesso tempo. Ed ora realizziamo una nail art con tutti i prodotti che vi ho appena citato. Inizio con il gel rimuovi cuticole ad azione rapida. Si tratta di un gel appunto che ammorbidisce le cuticole e le rimuove facilmente, le fa rimuovere facilmente. Lo lascio in posa per 30 secondi e successivamente rimuovo le cuticole in eccesso. Ora vado ad applicare la Ultra Stay Base, si tratta di un primer appunto e questa base aumenta la tenuta dello smalto colorato. Applico su tutte le unghie lo smalto numero 1 Oil & Color Deborah Milano. La formula di questi smalti è a lunga tenuta e continua pertanto olio di avocado ed estratto di limone che rinforza tantissimo le unghie. Adesso con lo smalto Oil & Color tonalità numero 06 vado semplicemente a realizzare, aiutandomi con il dotter, un puntino vicino al giro cuticole. Adesso è la volta della tonalità di smalto numero 02, un color fango davvero bellissimo e realizzo dei puntini più piccoli sempre lungo il giro cuticole. Con la tonalità numero 04 continuo e realizzo quasi una specie di collana. E infine per fissare il tutto vado ad applicare l'asciuga smalto rapido Quick Dry Top Coat, si tratta di un top coat appunto che promette un'asciugatura rapidissima dello smalto. Ragazzi il risultato finale della nail art sarà questo, fatemi sapere se realizzerete la nail art e quali prodotti siete curiosi di provare. Io vi rimando alle prossime novità Deborah Milano, un bacione e buona estate. Ciao!